bentornati nel mio canale oggi facciamo le amarene sciroppate gli ingredienti sono amarene e zucchero e tanta pazienza prendiamo le amarene appena raccolte e le laviamo sotto acqua corrente fredda poi passiamo a togliere il nocciolo una per ora mettete la polpa da una parte e il nocciolo da un'altra parte dai noccioli potete fare anche un ottimo liquore una volta pulite tutte le amarene prendete dei vasetti sterilizzati e misurate quante amarene ci vanno dentro in questo caso ne vanno 300 grammi mi raccomando non fatelo troppo pieno altrimenti lo zucchero non ci andrà quindi mettiamo 300 grammi di amarene e mettiamo 300 grammi di zucchero il rapporto è 1 a 1 300 grammi di amarene 300 grammi di zucchero andiamo a tutti fredda verso il questo caso per favore chiudiamo e agitiamo non vi preoccupate lo zucchero si scioglierà nei prossimi giorni al sole mettete al sole per 40 giorni anche se piove lasciatele lì e dopo 40 giorni saranno pronte da gustare su gelati, zeppole e altri dolci in questi 40 giorni mi raccomando ogni tanto rigirate i barattoli eccole qui come si presenteranno tra 40 giorni queste sono dell'anno scorso lasciami un like e condividi se questa ricetta ti è piaciuta e iscriviti al canale e attiva la campanella ciao ciao